Cosa mangiava il megalodonte? Il megalodonte è una specie di squalo estinta che visse circa intorno ai 14 milioni di anni fa. Alcuni esemplari, secondo diverse teorie, potevano raggiungere anche i 25 metri. Un aspetto sorprendente del megalodonte è la sua dieta. Si ritiene che si cibasse di grandi mammiferi marini come le balene, ma alcuni ricercatori hanno suggerito che potrebbe aver predato persino creature più grandi, come le balenottere azzurre, che sono i mammiferi più grandi conosciuti sulla Terra. Immagina l'audacia di un squalo preistorico che caccia creature delle dimensioni di un aereo. Impressionante, vero? Cos'altro ti piacerebbe sapere sul megalodonte? Scrivilo nei commenti e non dimenticarti di seguire il canale. Tuttavia, è importante notare che tutte queste teorie rimangono dibattute e alcune potrebbero essere più fantastiche che basate su prove concrete, dato che gran parte delle conoscenze sul megalodonte si basa su fossili e studi paleontologici.